Buongiorno ragazzi, questa è la seconda domenica in giro per la Francia e ci facciamo un giro per Toulouse. La chiesa di San Cernin è considerata uno degli esempi di architettura romanica più interessanti della Francia. È stata dedicata appunto a San Cernino, martire, che è stato anche il primo vescovo della città. Oggi è la prima domenica del mese, i musei sono gratis, quindi oggi andremo a vedere un po' di musei e poi gireremo il centro della città. Il Campidoglio di Toulouse è uno degli edifici più importanti della città, è attualmente la sede del municipio ed fu costruito nel 1190. Ve lo faccio vedere e poi entriamo. La piazza che vi faccio vedere adesso prima era piena di edifici, sono stati abbattuti proprio per fare questa grandissima piazza. Proseguiamo il nostro tour per i musei e questa volta andiamo al museo più importante di Toulouse, il museo degli Agostiniani. Era un vecchio convento e dentro ci sono sculture, opere d'arte assolutamente da vedere se venite a Toulouse. Il Campidoglio di Toulouse è un'esperienza. Il Campidoglio di Toulouse è un paese di Toulouse. La piazza che vi faccio vedere se venite a Toulouse è un paese di Toulouse. E questo è un paese di Toulouse è un paese di Toulouse. Se siete a Toulouse il Museo degli Agostiniani è assolutamente da vedere Ci sono delle opere d'arte veramente belle come avete visto anche dal video Adesso noi proseguiamo il nostro tour E dopo aver mangiato ce ne andiamo verso la cattedrale di Tolosa Andavamo verso la cattedrale e ci siamo imbattuti nel Ponte Nuovo di Tolosa La cattedrale di Tolosa è il principale luogo di culto della città È anche sede del Vescovo, quindi della diocesi della città Adesso andiamo all'interno a vederla e vi racconto qualche curiosità Secondo la storia pare che la cattedrale di Tolosa fu costruita su una cappella del III secolo Successivamente negli anni ha subito una serie di modifiche E la curiosità più interessante è che all'interno esiste uno stilo romanico e uno stilo gotico E pare che sia l'unica chiesa al mondo che abbia i due stili fusi in essa Queste sono le cose da vedere a Tolosa, soprattutto in un giorno Vi ricordo di iscrivervi al canale, è gratuito Lasciate un mi piace, un commento e condividete questo video Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!